è il momento perfetto per scegliere un nuovo punto di vista toyota chr hybrid coupé suv ibrido con tecnologia hybrid coach che migliora il tuo stile di guida scegli oggi chr hybrid hai ancora fino a 6.000 euro di bonus in caso di rottamazione grazie all'hybrid bonus toyota e agli eco incentivi statali